Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Sono di nuovo qui con il post di OJ Gurel e Serkan Kayoglu. Oggi parleremo della vita privata di due persone di successo. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Iscriviti al nostro canale e condividi i tuoi pensieri con noi nella sezione commenti. Nell'attesissimo incontro, le star turche OJ Gurel e Kenya Mann conquisteranno ancora una volta i cuori firmando insieme un nuovo progetto. Lodato per le loro precedenti collaborazioni, il dinamico duo è pronto a portare al pubblico i loro oli per la preghiera notturna sullo schermo, in uno sforzo che promette una deliziosa miscela di romanticismo e risate. L'annuncio ha suscitato scalpore sulle piattaforme dei social media poiché i fan dell'amata coppia aspettavano con impazienza notizie sul loro progetto comune sin dalla loro ultima impresa di successo. I nostri talentuosi attori OJ Gurel e Kenya Mann, che hanno affascinato il pubblico insieme in molti progetti in passato, dovrebbero intrecciare nuovamente la loro magia creando una narrazione affascinante che riveli la loro chimica e le loro capacità di recitazione in questa televisione. Anche se i dettagli sul nuovo progetto rimangono segreti, gli addetti ai lavori sostengono che la storia offrirà una nuova prospettiva sull'amore e sulle relazioni e offrirà ai fan una deliziosa miscela di romanticismo e commedia, un genere in cui Gurel e Kenya Mann hanno già avuto successo. OJ Gurel e Kenya Mann hanno condiviso l'entusiasmante notizia con i loro fan sui social media. Gli attori hanno espresso la loro emozione di ritrovarsi sul grande schermo e hanno promesso al pubblico un'esperienza divertente e toccante. Grazie a tutti per aver guardato un giorno. Arrivederci ai nuovi video.